Da Piazza Bagni con Gaetano De Migris l'ennesima prova alla quale Casa Micciola e i casamicciolesi sono stati sottoposti però salendo via Monte della Misericordia abbiamo potuto riprendere una mole di persone al lavoro veramente incredibile, non solo di Casa Micciola, non solo Ischitani ma tanti soccorritori arrivati da ogni parte. E' vero abbiamo avuto una solidarietà incomiabile ma quello che tengo di più sono i ragazzi. Sono i ragazzi tutti giovanissimi. Che sperano nella ricrescita del paese più che altro, speriamo bene che qualcuno ci aiuti perché noi dopo un terremoto, dopo la pandemia, adesso si è messa pure l'alluvione. Non lo so questo comune come andrà avanti e se andrà avanti perché ho i miei dubbi in questo momento ma spero che mi passino. Ovviamente vi facciamo un invito che non è solo simbolico ma anche pratico nell'assisterli, nel fare in modo che possano fare quello che devono fare con la maggiore sicurezza possibile però veramente è una traccia importantissima che siano così giovani, tanti 18 anni li faranno tra qualche anno. Sì, è vero, è vero, ma c'è stato questo cordone obelicale per tutta l'isola e questo a me mi fa tanto piacere.